La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti con l'eccellenza dell'anno Innovazione Leadership, soluzioni tecnologiche per il sistema sanitario. E questo premio va a Data Solution Provider. Leggiamo la motivazione per essere punto di riferimento nella realizzazione di soluzioni digitali innovative, sia per il settore sanitario pubblico che privato, per la metodologia di lavoro basata su qualità, esperienza e versatilità, per l'impegno instancabile nel mettere al centro dei propri sforzi il miglioramento della qualità di vita dei pazienti e l'efficienza di fornitori di prestazioni mediche. Data Solution Provider, complimenti. Diamo il nostro benvenuto al dottor Michele Cancelliere, amministratore delegato della Data Solution Provider. La vostra è una realtà di eccellenza nel campo delle soluzioni tecnologiche per il sistema sanitario, sia centrale che territoriale. Quali sono i punti di forza della vostra azienda? Grazie dell'invito. Noi siamo un partner tecnologico per le aziende sanitarie pubbliche e private. I nostri punti di forza sono la capacità di gestire in maniera avanzata ai dati. Facciamo di questo il nostro focus principale della nostra azienda e lavoriamo anche sulla semplicità dei processi amministrativi. Questi sono i nostri punti di forza e elementi distintivi. L'altro aspetto importante è quello che facciamo noi nei confronti dei nostri clienti è quello di avere un ascolto attivo. Qui abbiamo una capacità importante di comprendere velocemente le esigenze e metterle a terra altrettanto velocemente. Questo perché l'obiettivo delle aziende sanitarie con cui lavoriamo è quello di prendersi cura delle persone. Quindi il nostro lavoro punta al miglioramento della qualità di vita delle persone che sono prese in carico al sistema sanitario. Dottor Cancelliere, secondo lei quali sono le prossime sfide tecnologiche che il sistema sanitario dovrà affrontare e quale sarà in tal senso il contributo della Data Solution Provider? Io alzerei lo sguardo in termini di sfide. Parlerei più di sfide del sistema sanitario in generale. Oggi sicuramente c'è un tema legato all'accesso alle cure che in questo momento credo che non sia molto equo. Quindi pensiamo in Italia anche alle disparità geografiche che ci sono proprio nella tipologia di servizio che viene erogato da strutture sanitarie. L'altro aspetto è l'aumento dei pazienti cronici che insieme all'invecchiamento della popolazione sono due aspetti che premono parecchio sul sistema sanitario e l'altro tema è il calo degli operatori sanitari. Nel prossimo decennio si prevede un significativo calo degli operatori sanitari, quindi intendiamo medici, infermieri eccetera. Quindi questo è un aspetto importante da gestire che preme sul sistema sanitario. Le sfide tecnologiche che dovrebbero risolvere questi aspetti per me rimangono sempre la semplicità dei processi. Oggi non possiamo quando accade anche un semplice episodio acuto fare in ospedale anche se è una cosa di lieve entità perdiamo circa 10, 15, 20 minuti, 40 minuti magari a compilare un pezzo di carta piuttosto che inserire dei dati e magari poi ci sono 5-10 minuti di visita a secondo diciamo della gravità chiaramente. Il sistema sanitario nazionale italiano è uno dei migliori in assoluto molto probabilmente e soprattutto per gli episodi acuti. È un sistema sanitario nazionale gratuito e questo è chiaramente un asset per il nostro paese. Ci sono delle cose a migliorare e sicuramente l'accesso alle cure è una di queste. Noi pensiamo che la capacità di raccogliere, aggregare, strutturare i dati, estrarre valore da queste informazioni in maniera tale che ci sia un'efficienza nel servire il paziente e nel prendersi cura del paziente noi crediamo che questa sia la vera sfida tecnologica. Questa sera Le Fonti vi ha consegnato un prestigioso riconoscimento che premia la vostra eccellenza nel settore. Guardando al futuro quali sono gli obiettivi che vi ponete nei prossimi anni? Sì, l'obiettivo rimane quello del miglioramento della qualità della vita delle persone. Noi stiamo sviluppando soluzioni che aiuteranno le aziende sanitarie a fare questo sia in termini di semplificazione che in termini di iniziativa da parte delle aziende sanitarie nei confronti della popolazione. E questo lo facciamo e lo faremo con soluzioni tecnologiche innovative, con progetti organizzativi, progetti di telemedicina e soluzioni di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale con la storia del paziente intorno e con l'arricchimento dei dati che vengono dalla sensoristica diventa un elemento, diventa un'abilità importante per aiutare a predire le patologie e a migliorare la vita delle persone.